Musica Salve a tutti e benvenuti a questa seconda parte della campagna di Left 4 Dead Qui su Useless Videogamers Italia Siamo sempre Scud e Mike94 Ciao ragazzi Bene, Mike facci subito strada Facci subito strada e speriamo che questa sia la volta buona Speriamo Sto livello veramente ci sta facendo dannare Vabbè, speriamo bene insomma Ciao amici Chi non muore si rivede Sì infatti, Mike, questi qui sono i protagonisti del primo Left 4 Dead, giusto? Sì sì, sono i miei loro Speriamo bene ora Sì sì, assolutamente Come potete notare l'obiettivo Mike, seguimi subito Sì sì L'obiettivo è di inserire queste 16 taniche O meglio, il carburante di queste 16 taniche nel generatore Oh, attenzione Boomer Questa scena mi ricorda qualcosa Io che bestemmia in diretta Più che altro mi ricorda quella volta che io sono andato avanti Tu sei... il Boomer mi è scoppiato addosso perché tu praticamente ti eri fatto indietro E' l'alta registrazione Vai vai Ma una cosa che... ma il Boomer ti danneggia quando... No, in poco allora ti spara addosso la bile Che attira gli altri zombie Bene Che vogliono poi amoreggiare con te giochi preziosi Minchia Posso uscire la decisione da una... Una mira... Di cacca E più che altro... a causa del... non so se il lag o il server che fa cagare Ma comunque mi ritrovo... sai un secondo dopo mi ritrovo addosso 500 zombie Un attimo prima Ma è giusto che sia Esatto Mike seguimi subito Sì sì, sto dietro, sto dietro Bene, allora... ecco... una cosa... una cosa buona da fare... Pregare Sì sì anche Allora Mike, fermo, non prendiamo i... le tanniche Adesso ci attaccheranno, quindi... Uccidiamo gli zombie e poi... Ma la roccella mi spaga, cioè Ah Ok Corri Sì sì Come sempre Ah, non si riesce neanche... ah A correre, io sto correndo Cioè io sono arrivato Ci senti? È l'iss come sempre, vabbè Oramai... eh, l'iss è una causa persa Vai Mike, vieni... vai pure avanti... anzi... andiamo a quelli là... nel... sinistra È destra No Ma fai le finte però Roscella è a terra e vabbè Sì, faccio le finte perché... Ci ho imparato la lezione Salvare Roscella non è buona cosa Ma... Ok, dovremmo... Eh, Hunter mi ha preso sto bastardo Non è c'è la miseria Aiuto Io ho le pietre... Addosso Grazie Eh, adesso vorrei pure aiutarti a... Ma Alice e Rochelle dove sono? Sono... vediamo... rispettivamente a terra e in piedi Ma... Ecco... Utili proprio come il famoso 2d pick Eh... Eh... Eh, sto tank non muore Ma chi è, oh... ma chi è Hulk, eh? No Finalmente Ma vabbè Prendi... Prendi la mia tanica e seguimi Sì, subito Sto un attimo... Curando Sì, sì, assolutamente Ecco, sono questi... Sono questi i momenti in cui perdiamo un sacco di tempo Perché si decidono di attaccarci in massa Molto semplice appunto come livello Eh, facilissimo No Chargerino Oh O per meglio dire braccio di ferro Ormai Mike ha un soprannome per ognuno di loro Esattamente Per dimostrare bene che gli voglio Linguazzino che mi prende sempre Annaccia a lui, annaccia Dove stai? Sto... qua Ecco qua Anch'io sto qua Ah sì? Eh, è un posto molto frequentato, eh? Esattamente Eeeh, ma che stanno... Stanno c'è un rage qua Mike, vedo che... Vedo che sei solo No, no, ci sta lo Shell Alice Sì, vengo ad aiutarti Scalda, ho ucciso Smoker Mamma mia, avresti dovuto vedere come l'ho ucciso Sto correndo Corri, corri Non vorrei morire Quale specie di slinguazzino che mi ha preso, la grandissima Quella sua grandissima Genitrice Forza Mike, sono dietro di te Sì Tanto qua tossiscono tutti, vabbè Eh beh, il fumo non ha mai fatto bene, ecco alcuno mi... Si è il fumo ma anche i Charger non l'hanno mai fatto bene No no Tanto sto morendo, cioè mi stanno curando e sto morendo, non riesco a capire come... Ah che avventura epica, come finirà? Ah ma tu mi hai buttato per terra eh Stardo Ho sempre stato avuto e mi volevi morto Si Eh, due Hunter e non uno, due Hunter Mi volete fare un attimo curare per favore? Non chiedo tanto Le cose più facili Tu fatti curare, io prendo questa botanica Si si mi hanno curato Ma... Io sento terremoto Sento un terremoto, scommetto che c'è qualcosa tipo un tank da qualche parte, giusto? Si Bene Eccolo qua Si, io mi nascondo Ti nascondi? Si Allora tra l'altro consiglio... Due tank ovviamente, che uno è poco, cioè Eh ma tutti mi stanno tirando rocce eh Cioè che livello sarebbe con un tank alla volta? Che mondo sarebbe senza tank? Eh, ma il tank lava.. Ah mannac mal, ma vi sta buttandola all'aria come E' morto l'incredibile Hulk qua Comunque un consiglio che vediamo quando arrivano i tank, eh.. portateli sempre dove stanno gli altri survivor e vedrete che vi aiuteranno tantissimo Di certo non come Elisa e Rochelle che non fanno un cazzo anche se preghi in turco Ecco io Mike per esempio gli dico sempre non prendere le tanniche più vicine, prendi le vere ultime E lo vedo puntualmente che prende le tanniche più vicine Allora facciamo pure questi e poi corriamo a prendere le altre Allora dritto e poi a sinistra Poi ce ne mancano dopo queste altre due Da che c'ha potremmo fare forse Teoria Aspetta che ci stanno tornando ad attaccarci, io direi respingiamoli e poi Ah non sempre come la tattica Corri scappa no non funziona No in questo caso no Ecco perché non spara, perché non spara E mi dobbiamo da sopra E qua qualcun altro, un hunter Oh ma quanti hunter ci sono? Ma che hanno fatto la congresso qua Come diventare hunter in poco? Ma che cazzo? Cioè ma chi è che mi sta finendo? Ah il charger Mike devi correre Eh no sto a terra Sto a terra ovviamente Nice Vabbè vengo a saldarti Sto anche figgendo Oh sei nell'acido Sì sì ovviamente Non farci mancare nulla Sto arrivando Allora qui ci sono Oddio Non sta finendo bene Sì Beh non è nemmeno iniziata bene Alzati subito e porta la tannica Io penso a salvare gli altri Sì Dai che ce ne mancano due Dai che ce la potremmo fare Ecco qua Grande Eh ma qui c'è un tank Non sarà facile E qui c'è un hunter che mi prende Ma che culo Ma no Dai ce la potremmo fare Ma non Non è possibile salvarli quando c'è Eh non li salvare c'è Sti cazzi Dove stai? Io faccio sempre del mio meglio ma Dove sto? Sto Sto in fuga con la tannica in mano Vi vado a prendere l'altro Cerchiamo di non morire No no Intanto Alice è ancora vivo C'è troppo silenzio Cioè Ecco appunto Mike dove sei? Sto arrivando Forse Dai che ce la potremmo fare Ecco appunto Guarda questo Spera che vengo a salvarti Sì ma possiamo farcela Forse Non lo diciamo troppo Perché se no Ok Dai 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 Ti prego gioco Allora Dove sei? Qua c'è un medit Sì lo prendo Lo prendo Lascia Lo qua Grazie Allora 50 euro Ok Allora mettiamoci qui Ok Il punto si abbassa Ci mettono infinita di tempo Ad abbassarsi Perché Devono farti spantecare C'è un charger Mike Mike Ok Eh Scherzone Dai 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 Grande Ma baffanciuccolo Vai così Eeeh Ah santo cielo Dopo un quarto d'ora che abbiamo passato sudando Guarda quell'arma che vola Stupendo Sì E vabbè Che possiamo dire Ebbè L'abbiamo Anche questa volta Anche questa volta Nonostante la morte di Roscello Ce l'abbiamo fatta Eeeh Mike prego A te i saluti Eeeh Vabbè E' finita la puntata Vi volevamo Salutare E ringraziare Sempre per tutto quello che state facendo Per il numero di iscritti Che abbiamo raggiunto In così poco tempo Quindi Grazie 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 Da parte di entrambi Sì assolutamente Grazie Eeeh Un saluto Da useless videogamer Da Ovviamente Vi ricordo sempre di iscrivervi Se non Non siete iscritti Di commentare Di mettere di mi piace E di condividere il video Per poterci Far crescere sempre di più Un saluto Da Mike94 E Scud Ciao ragazzi Sì assolutamente 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 Sì assolutamente